Ci saranno snack, patatine, lecca lecca non di marca ma bio o eco solidali. Non ci saranno lattine di Coca-Cola ma di Guaranito, un prodotto simile che deriva dalla pianta del Guaranà. Si potrà inoltre bere il caffè di una cooperativa di Bellocchi, acquistare il succo di mela importato da Monte Pulciano, le arance da Matera, le paste e i pasticcini da Saltara. Oltre a questo si sta pensando di organizzare delle attività di laboratorio con i bambini per preparare la merenda con frutta e yogurt. Si baserà dunque sul rispetto dell'ambiente e sulla sana alimentazione ma anche sulla cultura al nuovo progetto della cooperativa Gerico che ha preso in gestione il Memo Cafè, il punto di ristoro interno alla Mediateca Montanari e che inaugurerà domani alle 16.30. Venendo da un mondo cooperativistico solidaristico abbiamo colto l'occasione per ampliare un po' i nostri ragionamenti, le possibilità di collaborazione che vanno nella direzione di essere anche un servizio non solo imprenditoriale ma con una forte valenza sociale sul territorio anche perché questo ci consente di incrementare e enricchire l'offerta culturale per i nostri cittadini. Infatti Gerico non intende limitarsi alla gestione del bar ma vorrebbe contribuire alla programmazione delle attività culturali all'interno della Mediateca. Ad esempio sta pensando ad una serie di appuntamenti per diffondere la filosofia che li caratterizza da ben 18 anni e cioè la cooperativa sociale, la filiera corta, i prodotti biologici e il commercio ecosolidale. Ci potrà permettere di portare i nostri prodotti e far vedere che un'altra possibilità di scelta quindi più consapevole verso il commercio ecosolidale, verso il biologico è possibile con gli stessi prezzi. Oltre a questo è possibile anche l'inserimento di persone che hanno delle difficoltà. Certo, come cooperativa sociale noi abbiamo come mission sempre prioritaria l'inserimento di ragazzi con fragilità psichica e anche lì sarà un'occasione per fare delle prove.